L'albergo Olivier non lo vuole nessuno. È andata deserta anche la quinta asta giudiziaria per l'acquisizione dello storico hotel del Nevegal. Si partiva da una base di 611.718 euro, offerta minima 458.789 euro, una cifra appetibile per una struttura valutata circa 3 milioni di euro. Non ha presentato offerte, nemmeno Nevegal 365, nonostante l'accordata di imprenditori italo-algerini avessi dichiarato in consiglio comunale e in un'assemblea pubblica la volontà di investire sulla ricettività, anche recuperando gli alberghi dismessi. La mancata partecipazione all'asta da parte di chi si è detto pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il rilancio del colle, ha naturalmente scatenato le reazioni dell'opposizione in consiglio comunale. Crescono i dubbi sull'operazione, con il PD che chiede le dimissioni dell'assessore al progetto Nevegal, Franco Roccon, primo sponsor dell'accordata. Si può giustificare questa mancanza di partecipazione della società dicendo che è solo un conflitto fra privati, ci dobbiamo ricordare che l'amministrazione ha firmato una lettera di intenti con questa società ancora prima che venisse costituita e dobbiamo anche ricordarci che durante un consiglio comunale l'amministratore delegato, o comunque uno dei principali investitori, è venuto a rassicurare il consiglio rispetto a questi investimenti, tra l'altro con la gara per l'assignazione degli impianti ancora aperta. La responsabilità è chiara, è dell'assessore Roccon che ha urlato ai 420 e presentato prima ai giornalisti e poi al consiglio questo fantomatico piano di rigenerazione del Nevegal e non può che ora tranne le dirette conseguenze rassegnando le dimissioni. Non succederà e lo sappiamo perfettamente, ci aspettiamo quindi che sia il sindaco in primis ad assumersi la responsabilità di quello che è un vero e proprio fallimento. L'assessore Roccon però alle dimissioni non ci pensa, mostrandoci fiducioso sulla bontà dell'operazione. Sono tranquillissimo, nel senso che so come stanno lavorando e che cosa porteranno a casa, il rapporto con i fondi internazionali è un rapporto difficile, non è facile portare a casa milioni di euro per gli investimenti e li posso anche capire su questi ritardi. Poi, sull'acquisizione dell'Olivier avranno fatto le loro considerazioni, dovete chiederlo a loro, alla 3,65 più che all'assessore. Certo che se hanno chiesto le dimissioni per tutto il lavoro che in questo anno e mezzo abbiamo fatto sul colle, rammento l'acquisizione dell'acqua dopo vent'anni che era in piedi, rammento la chiusura del bando di gara per l'acquisizione degli impianti, rammento l'avvio dei lavori del piazzale, rammento i lavori per il laghetto del colle. Quindi, insomma, se le richieste di dimissioni viene per questi motivi io continuo a riceverle volentieri.